Ciodi! Buffy! Signore Davis, sono gemelli, sono assolutamente identici. Bess, che cosa fai a New York? Ti abbiamo visto sulla copertina del World Magazine. Aspettate un momento, senti, che intenzioni hai? Signore, le devo dire una cosa. Fran mi ha detto che tu praticamente hai adottato Buffy, ora è giusto che i gemelli stiano insieme. Signore, è veramente essenziale che lei... Ah, no, no, non posso fermarmi un minuto di più, l'aereo parte e fammi tu fa voler di pensare a tutto, eh? No, aspetti, signore, non mi puoi lasciare... Ti prego, Francia, non mi complicare le cose, ci vediamo al mio ritorno. Arrivederci, arrivederci, bambini. Anna, tieni, eh? Signor Davis, signor Davis, no, signor Davis, signor Davis, mi ascolti, lei non mi può lasciare così. E lui chi è? La governante. Gli piacciono i bambini? Non credo proprio. Corre molto veloce? No. Sta bene, resterò. E in casa il signor Davis? No, chi devo dire che lo ha cercato? La signora Grayson, e questa è la nipota del signore. Sì, sì. Sì. Oh no, sono una governante.